Nessun segno di percosse o maltrattamenti, ma un'unica lesione alla testa compatibile con la caduta da un passeggino. E' questo l'esito dell'autopsia eseguita ieri pomeriggio sul corpo del bambino foggiano di soli due mesi morto a seguito del grave trauma al capo riportato dopo la caduta da un passeggino. L'esame autoptico effettuato presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico Umberto I di Roma avrebbe confermato quindi la versione della madre del piccolo, una 46enne indagata per omicidio colposo nell'ambito di un'indagine aperta dalla Procura Capitolina. L'incidente, costato la vita al piccolo, risale al 17 giugno scorso. La donna, residente a Foggia ma in visita ad alcuni parenti a Vico del Gargano, sarebbe inciampata accidentalmente mentre percorreva a piedi una strada in ripida discesa. Il bambino avrebbe così battuto violentamente la testa sull'asfalto riportando una grave lesione cranica. Dopo essere stato trasportato d'urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, il piccolo è stato trasferito in seguito in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, dove però è morto poco dopo il suo arrivo. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di presunti maltrattamenti subiti dal neonato è la cosiddetta sindrome del bimbo scosso, ovvero il decesso sopraggiunto a causa di un violento scuotimento del bambino. Un'ipotesi tuttavia smentita dei primi risultati dell'autopsia. A breve verranno eseguiti anche gli esami istologici. I funerali del piccolo saranno celebrati nei prossimi giorni a Foggia.